buongiorno sto andando a fare la tacca e viene mi sono dimenticata di ringraziare antonino ignoti e patricia vassallo che mi hanno fatto un bellissimo pensiero scritto quindi vi saluto e poi approfitto per fare gli auguri a antonino che ha compiuto gli anni vi voglio bene e ci aggiorniamo a dopo vado